Sono qui e magari qualcuno sarà deluso, porto la mascherina per un motivo molto semplice. Il centro del mio discorso è che il Covid c'è, esiste. Credo che qualcuno lo stia usando per determinati scopi, vediamo cosa. Forse tutto questo fa parte, poi ne trarrete voi le conseguenze di un disegno. Io non voglio anticipare nulla, ognuno dirà quello che pensa al termine di questa relazione. Poi ve lo dico, non voglio essere confuso né con i seguaci di Don Ferrante, né voglio essere confuso con i seguaci di Barbara D'Urso, o con le maialine dell'isola di Pag che hanno detto di Covidi. Non ce n'è, no, ce n'è di Covidi e credo che noi dobbiamo essere molto attenti a non farci confondere con questo tipo di persone che poi sono state chiamate negazioniste non a caso, vedremo da chi. E alla fine uno finisce per diventare, se mette in discussione, la versione ufficiale del Covid diventa grottesco, lo fanno diventare terrapiattista, che crede nelle sirene, negazionista appunto e poi immancabilmente antisemita. Non si capisce perché. Ma questa è la logica che segue. Perché non dimentichiamocelo che gli aedi del Covid, cioè quelli che stanno narrando il Covid, si sono subito impossessati dell'informazione e si sono subito definiti gli editori responsabili. Ci sono tutti, ve li voglio far vedere. C'è Silvione, c'è la Rai, c'è Cairo, c'è la famiglia dei Benedetti, ci sono gli Elkan, c'è la Confindustria. La narrazione è uniforme, sono sempre loro e parlano loro e dicono loro. Non ci sono possibilità di diverse, diciamo così, discussioni o di diverse interpretazioni. Nessuno lo sa, ma facciamo un po' di gossip. Il nostro commissario Arcuri è stato il compagno della Mirta Merlino, che è imperversa sulla 7, che è la TV di Cairo, dove ci sta Mentana, che è anche quello che ha fondato Open. E Open è l'associazione a cui è stata data, diciamo così, il mandato per stanare quelle che sono le fake news. Non c'è possibilità, bisogna fare in modo quindi di non essere accusati di, come dire, leggerezza nei confronti del Covid. È per questo appunto che io ho deciso di parlarvi con la mascherina. Ora, anche a livello internazionale, io seguirò molto quello che viene detto dall'Economist. E poi vedrete che dietro questo giornale c'è anche una linea precisa, sia per il passato, sia per il futuro. L'Economist è uno dei giornali internazionali maggiormente accreditato. Uno dice chissà che personaggi straordinari ci saranno dietro. Ci sono sempre loro, cioè la famiglia Agnelli, e questa volta con il valido contributo dei Roccil, che non mancano mai. Ecco, questi signori, lo voglio dire, sono anche quelli che riescono ad avere qualche commessa. Non si capisce perché il codice dei contratti debba valere per alcuni e non per tutti. Comunque dice questa notizia che il patto Conte e il Cannes consente alla FCA, cioè a quella che una volta faceva macchine, di produrre anche 27 milioni al giorno di mascherine, il che insomma anche questo tutto fa fatturato. L'Economist, mentre noi ci stavamo un attimino tranquillizzando nell'estate appena trascorsa, esce con questa copertina che dice la prossima catastrofe e come sopravvivere. Allora, se voi guardate questa copertina è molto molto significativa perché si vede una famiglia con ben più della nostra mascherina di oggi e con intorno tutti gli incubi a cui noi dobbiamo essere sottomessi. La peste suina, abbiamo terremoti ed eruzioni, abbiamo lo scioglimento dei ghiacciai, virus e batteri, l'atomica e anche qualche flare, si dice, solare. Insomma, come ci dice nella diapositiva a fianco Bill Gates, il cambiamento climatico ci sta preparando una catastrofe ben peggiore di quella del Covid. Questa è la narrazione ufficiale. Ma non è una narrazione ufficiale che c'è da oggi. Io vorrei soprattutto per le persone più giovani che noi ci ricordassimo che questa è la narrazione ufficiale di 20 anni. Questa è la copertina di Time dell'ottobre del 2001 che parla del fattore della paura. E così andiamo a Raffica a rivederci i nostri 20 anni sul divano con il fattore paura che ha segnato le nostre vite. Ce lo ricorda questo signore che non è un pericoloso tradizionalista, ma è l'ex ministro del governo Blair, si chiama Michael Mitchell e scrisse nel 2003 questo articolo sul Guardian in cui con molta onestà intellettuale diceva questa guerra al terrorismo è una fuffa, cioè è un imbroglio, è un inganno. E nell'avere esplicitato che dietro questo c'era il cosiddetto Project for the New American Century della banda di Cine, Ransfield, Wolfowitz e Libby, cioè in sostanza dell'Israel Lobby che lavorava con i neoconservatori, dice anche che alla fine il documento propugna inoltre la creazione di forze spaziali americane per dominare lo spazio, eravamo nel 2003, sapete che sono state create di recente, il controllo totale del ciberspazio per impedire a nemici di usare internet contro gli USA e suggerisce anche agli Stati Uniti lo sviluppo di armi biologiche che possono colpire specifici genotipi e trasformare la guerra biologica da strumento del terrore in un utile strumento politico. Vedremo che questo ha trovato qualche teorizzatore, devo dire, molto molto acuto. E allora andiamoci a rivedere questi ultimi vent'anni, l'attacco alle torri gemelle, non abbiamo mai visto l'aereo che si è schiantato sul Pentagono, ve lo voglio ricordare, e tutti i dubbi che sono stati sollevati sono stati immediatamente silenziati. Poi ci fu la prima guerra batteriologica, il carbonchio, l'antrace, vi ricordate le buste ai senatori democratici, se no ci dimentichiamo tutto. Alla fine si scoprì che era un ricercatore che collaborava con il Pentagono. Poi ci fu la fialetta maledetta di Colin Powell, quella fialetta che doveva possedere Saddam Hussein, con la quale ci hanno trascinati nella guerra del Golfo e nella destabilizzazione di tutto il Medio Oriente. Poi c'è stata la mucca pazza, ci hanno fatto diventare matti tutti, avevamo visto le mucche che tremavano, col Parkinson, con la lingua di fuori. Però poi c'è la mucca pazza e quella è sinistra, ve lo dico, che non vorrei che... È così, e la mucca pazza, però torna fuori oggi, ce l'hanno già detto, Covid-19, mucca pazza così diversi eppure così uguali. E poi c'è stata la viaria, e non è tanto la viaria alla disgrazia quanto la prefazione di Alessandro Cecchi Paone. Ma tutto questo ci è costato 3 miliardi di euro e non si sa quanto c'era di vero e quanto c'era di falso. Sta di fatto che voi eravate lì, sul divano, impauriti esattamente, come vi è stato detto, nel giugno-luglio di quest'anno dall'Economist. Poi è tornato l'allarme chimico al Senato USA, poi rischio attentati e batteri. Siamo nel 2004. Poi sono cominciati gli attentati terroristici, con gli zainetti, a Madrid, poi a Londra, poi l'attentato di Sharm el-Sheikh, poi quello di Amman del 2005, poi quello di Mumbai del 2006. Poi c'è stata la guerra del Libano, di cui nessuno sentiva il bisogno, tranne gli israeliani. Poi c'è stato il crack Lehman ed è iniziata la grande crisi finanziaria, dove tutti voi vi siete disperati, ma loro alla fine ci hanno fatto anche la maglietta commemorativa, perché nessuno lo sa, ma i Lehman sono partiti con un'azienda di cotone. Poi è arrivato lui, Barack Obama, e c'è stato l'attentato di Mumbai e poi le maledette primavere arabe. E voi eravate sempre lì, sul divano, a stare con gli occhi sberrati e a domandarvi domani cosa succede. Succede che c'è stata la guerra civile in Libia e poi c'è stata la guerra civile in Siria e poi c'è stata l'Ucraina e poi c'è stato l'attentato di Volgograd e poi le presunte armi chimiche di Saddam e poi la guerra civile nel Donbass, dove vanno benissimo quelli con la svastica, se sono i nemici di Putin. Poi è nato l'Isis, che non si capisce da dove sia nato. Improvvisamente sono arrivate Toyota da tutto il mondo e loro, con i vestiti neri, hanno iniziato questa guerra. Poi le decapitazioni, ve li ricordate? C'era una decapitazione al giorno, toglie il medico di torno e intanto Hillary ammetteva, sì, effettivamente l'abbiamo creato, ma c'è un po' sfuggita di mano. E poi l'attentato di Copenhagen, quello al museo di Tunisi, di Susa, il metrojet abbattuto, poi ci sono stati gli attentati a Charlie Hebdo, al Bataclani, camion bomba, i mercatini di Natale, non potevate più andare ai mercatini di Natale, poi sono cominciati i lupi solitari. E poi è iniziato il periodo delle emergenze, l'agenzia ansia è diventata emergenza, emergenza, emergency, emergenza spread. Fate presto, fate presto, fate, schnell Frau Merkel, fate presto, fate presto, fate presto. Guarda che caso, cioè delle cose, fashion magnifico, e poi è arrivata l'emergenza climatica, guarda come si trasformano le bambine, guarda, emergenza plastica, emergenza amazzonia. Ma nonostante questo, la globalizzazione va piano, rallenta, non raggiunge gli obiettivi, i sovranisti non arretrano, Trump ottiene successi, la Russia si rafforza, ma i cinesi non mollano, l'Iran non ci sono primavere in Iran, la Turchia si vuole mettere in proprio, ed è Brexit. Eppure loro nel 2016 avevano detto tutto sotto controllo, gennaio 2016. Sapete perché sono preoccupato? Perché questa copertina l'hanno ripetuta nell'aprile 2020, uguale. E hanno scritto Big Government, Liberty and the Virus. Ed è in questo sottotitolo, Big Government, come vedremo, che c'è tutto il segreto. Allora, una delle cose che non si può mettere in discussione nella narrazione ufficiale degli editori responsabili è che questo virus sia di origine naturale. Hanno detto, ed è un dogma, che questo virus è naturale. Non è una chinera. Gua è chi lo mette in discussione. Chi lo mette in discussione è terapiatista e anche un po' nazista. Ora, la teoria dello spillover, come vedete, è frutto di un libro del 2012, David Quaman, che dice sostanzialmente che è inevitabile che ci sia il salto di specie, spillover, adesso piace molto dire le parole in inglese. E si pensava, siccome questo è legato soprattutto all'HIV, che fossero le scimmie, che sarebbero state le scimmie a dare, diciamo così, il passaggio di specie. E infatti, se voi vedete, in basso a sinistra, la prima copertina, che è in inglese, faceva vedere questi denti di scimmia che avrebbero trasmesso il contagio. E quella a destra, in basso, è la prima copertina delle edizioni ad Elfidi. Allora, quella scimmietta con la chippà, per capirci, è la prima copertina. Poi l'hanno sostituita con il pipistrello. Però, in realtà, il vero problema è che l'ospite intermedio non è mai stato trovato. Non è mai stato trovato e, anzi, ecco, qualcuno ha scritto, non uno qualsiasi, il professor Joseph Tritto, ha scritto che questo è un virus creato in laboratorio. Uscito dal laboratorio cinese, con la collaborazione francese e di una parte dell'establishment degli Stati Uniti d'America, e il loro coinvolgimento precoce, cioè della Francia e degli Stati Uniti, può spiegare perché così tanti insistono sul fatto che la chimera deve provenire dalla natura. Anche Luc Montagnier ha detto la stessa cosa. Addirittura, Luc Montagnier ha parlato di un lavoro da orologiaio. Quindi questo qui è un virus, secondo personaggi assolutamente illustri, che è ingegnerizzato, è qualcosa creato a tavolino e quindi probabilmente anche manipolabile. Anche gli indiani lo avevano detto molto prima in questo studio, che voi vedete, c'è ancora su internet, e che è stato anch'esso silenziato. Così come è stato silenziato quel servizio apparso sul Tg3 Leonardo nel 2015, nel quale si raccontava di come in laboratori cinesi, con la collaborazione di Francia e Stati Uniti, si stesse lavorando alla creazione di un nuovo virus. Ora, se noi vogliamo capire qualcosa di più, io vorrei che mi ascoltasse un attimo, perché vi voglio leggere mezza pagina di questo libro di Maurizio Blondè, che forse qualcuno di voi o molti di voi conoscono, e che è del 2004, dove si parla di una strage incredibile di genetisti verificatasi a cavallo del secolo XX e XXI. Allora, scrive Blondè, Noi profani, e premetto questo, il mio intervento ha come scopo di cercare di farvi capire che dietro questa cosa qui c'è l'attacco all'albero della vita. Noi profani, così passo per passo completamente, noi profani, quando sentiamo parlare di armi biologiche, rischiamo di non capirne il vero senso. Le nostre conoscenze sono in questo campo arretrate. In fondo, una freccia del rio delle Amazone intinta nel veleno del cobra, il curaro, è un'arma biologica. I coloni americani che due secoli fa regalarono agli indiani coperte e infettate di vaiolosi, compirono il primo genocidio di successo con mezzi biologici. Il Giappone tentò di provocare un'epidemia di peste fra la popolazione cinese del Changqing. Ma non pensate a questo tipo rudimentale di guerra biologica. Non pensate nemmeno, non pensate più, che l'ultima parola scientifica sia la polvere di antracia superconcentrata, la cui militarizzazione è costata agli Stati Uniti tanti sforzi segreti. E non pensate nemmeno alla peste militare di Pashenik messa a punto in urs. E nemmeno alla produzione di ricina, il potente veleno o tossina estratto dalla pianta di ricino, cui pare si siano dedicati ricercatori iracheni. Tutto ciò, per quanto sofisticato, frutto di ricerche brevettate o messe a punto solo alla fine degli anni 90, è ampiamente superato. Oggi il bersaglio è il DNA, il nostro patrimonio genetico. La nuova medicina, che ci promette cure mirabolanti, sta preparando i mezzi per ucciderci in massa e selettivamente. Ancora peggio, queste armi ci uccideranno in massa e non sembreranno militari. Si parlerà di un nuovo virus 2004, si parlerà di un nuovo virus nato chissà come. Si parlerà di un'epinevia mai prima constatata, prodotta da virus rapidamente mutanti e dunque invisibili. Si parlerà di una malattia che distrugge raccolti di interi paesi, affamando specifiche nazioni, razze, stati. Saranno apparentemente atti di Dio, come le compagnie assicurative definiscono i naufragi, i terremoti, le eruzioni vulcaniche. Le aziende farmaceutiche faranno miliardi nello sviluppare e commerciare gli antidoti, i nuovi vaccini, le metodologie genetiche per combattere queste catastrofi naturali. E forse sono le stesse aziende che l'hanno provocata. Ciò di cui parliamo vive e prospera in questa maligna commistione di ricerca terapeutica, business farmaceutico, segretezza militare e aggressione bellica. Ciò di cui stiamo parlando rende obsoleta la stessa nozione di campo di battaglia, di teatro di operazioni, di guerra. La guerra può essere già in corso a nostra insaputa. Ora, io credo che, appunto, del Covid-19 noi dobbiamo dire una cosa. Che la guerra che è in atto è quella eterna di chi? Ora da destra, ora da sinistra, ora con la filosofia, oggi con la scienza ad essa applicata, muove alla riconquista dell'albero della vita. È l'idea oggi molto potente e biologica di utilizzare senza limiti e senza alcuna remora un potere che rigenera. Siamo, cioè, all'applicazione tecnologica di quella scienza che nel mondo esoterico ed ermetico, in ogni tempo e in ogni luogo, fu conosciuta e realizzata dalle élite dominatrici come scienza sacra e che da sempre era caratterizzata da forti venature di immanenza. Ciò che era pensato all'inizio come aspirazione metafisica, oggi diventa operatività scientifica e tecnologica, cioè come potenzialità da rendere attuale nel bios, cioè nella vita biologica, per estrarne nuove essenze. Se il Covid è un'arma, pensiamo a una guerra, ma a una guerra non convenzionale. Non una guerra tra stati, ma una guerra dentro gli stati, tra due modi opposti di vivere la vita, rimanere nelle leggi della vita e della natura, ovvero attivarne possibilità diverse, amplificanti, ipertrofiche. Su quest'ultima ipotesi, le élite dominatrici purtroppo guidano masse acefale, amorfe, progressive e desiderose di raggiungere, nella miseria della loro esistenza reale, un'eccitante condizione da superuomo, da discount. Come dimostra il massiccio ricorso ad ogni terapia chirurgica, tecnologia di miglioramento prestazionale quantitativo, tutti in marcia verso l'illusione di una vita fatta di plastica e collagene e in una condizione di costante alterazione coscienziale, senza più alcun interesse verso la propria appartenenza biologica, etnica, territoriale, culturale e spirituale. Siamo diventati un ammasso di cellule, preda della propria esuberanza vitalistica. Si tratta di greggi senza pastore, pronte solo per essere ricondotte sotto il dominio di un padrone spietato, carne da macello in transizione verso una dimensione post-umana e trans-umana, dominata dalla ragione di matrice illuminista, cioè dalla scienza, dalla chimica, dall'informatica, dalla tecnologia di controllo e dall'ingegneria biologica ed eugenetica. Qualcuno sul Covid ci ha scommesso e ci ha anche indicato, come vedete, la medicina per l'economia mondiale. Qualcuno lo aveva detto nel 1950, piaccia o meno, il governo mondiale ci sarà, si tratta solo di definire se sarà per consenso o se sarà per forza. Questa guerra durata vent'anni ci porta di crisi in crisi e per i fautori del vecchio mondo la crisi è un elemento essenziale per, diciamo, determinare fasi di dissoluzione creatrice, come dicono loro, e crisi rigeneranti, a tappe forzate verso il mondo nuovo. Queste sono le parole che pronunciò, le potete leggere, Monti allorché stava per diventare primo ministro. Non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi e per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a livello comunitario. È chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale possano essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico del non farle diventa superiore al costo del farle perché c'è una crisi in atto visibile ma conclamata che nell'emergenza sanitaria un economista da paura, il capo del governo più fallimentare degli ultimi anni sia poi stato scelto dall'OMS come super commissario sulle politiche sanitarie dimostra che è la salute, la vita e il DNA lo strumento principale del nuovo terrore giacobino. Tra le crisi globali la pandemia è l'arma più potente perché la crisi in atto visibile e conclamato porta il terrore nei corpi delle persone inducendole a sopportare ogni cosa che promette la salute e che è una difesa contro la morte. Quella che vedete sono notizie tratte dall'Agenzia Giornalistica Italiana che ci mostrano come dopo gli Stati Uniti che adesso sono usciti il maggiore finanziatore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità questa organizzazione che io definirei fallimentare e a delinquere sia Bill Gates e vedremo l'importanza che hanno che hanno non solo da un punto di vista pratico ma da un punto di vista teorico i cosiddetti filantropi in questa storia. Bene Bill Gates il 13 marzo del 2020 quindi a pandemia appena scoppiata lascia Microsoft e decide di dedicarsi esclusivamente ai vaccini nel 2019 con strana profezia aveva detto quali sono le prospettive future per la nostra fondazione sono particolarmente entusiasta di ciò che il prossimo anno cioè nel 2020 potrebbe significare per uno dei migliori acquisti per la salute mondiale i vaccini altro che profeta Isaia io ve lo dico ora ora questo signore alla destra nella foto è Anthony Fauci già uno che ha questo cognome io insomma però lui anche lui che è uno che anche lui deve avere qualche dote profetica nel 2017 aveva detto non c'è dubbio che il nuovo presidente Trump si troverà ad affrontare una malattia infettiva a sorpresa durante la sua presidenza resteremo sicuramente sorpresi nei prossimi anni guardate la faccia di Trump secondo me si tocca castamente e a livello apotropaico solo per quello ma insomma poverino Bill Gates anche lui ecco i loro infatti che cosa è successo che si sono persino ammalati tutti un altro un altro che per capire per capire dove dove circola quest'idea il principe Filippo voleva essere un virus letale per eliminare la sovrappopolazione anche lui e sono tutti tutti quelli che poi sono filantropi e vanno in giro per il mondo per salvare l'ambiente perché il virus è l'uomo eh lo stesso Bill Gates che prevede disastri su disastri e sono talmente talmente come dire talmente previdenti che poche settimane prima dello scoppio della pandemia hanno fatto questa esercitazione eh Event 201 o Event 201 eh pagato dalla Bill e Melinda Gates Foundation e dal World Economic Forum ed è un'esercitazione per una pandemia globale settembre settembre-ottobre del 2019 ma ancora più interessante è quello che è stato fatto da altri filantropi filantropi banchieri ovviamente cioè la fondazione Rockefeller che eh situa eh questa questa simulazione qualche anno prima e eh dice durante la pandemia i leader nazionali hanno esibito la loro autorità hanno imposto regole ferre restrizioni dall'obbligo di indossare mascherine appunto vedete al controllo della temperatura corporea negli spazi comuni come stazioni ferroviarie ai supermercati cioè su internet la potete trovare la simulazione dei Rockefeller distribui anche i passi successivi e dice all'inizio il concetto di un mondo più controllato ha ottenuto ampia accettazione e approvazione i cittadini hanno rinunciato volentieri ad una parte della loro sovranità e della loro privacy in cambio di maggiore sicurezza e stabilità e non è un modo di dire questo noi ce l'abbiamo già il DPCM che è a sinistra eh dice che possono essere trattati anche dati genetici genetici è già in atto e e poi andremo avanti intanto c'è l'app Immuni che all'inizio hanno detto non è obbligatorio ma adesso è già diventato un dovere morale poi diventerà un dovere giuridico poi chi non ce l'ha perderà parte dei propri diritti di cittadinanza oh però adesso vi voglio parlare della persona secondo me più geniale di tutta questa operazione che si chiama Atali non so se voi lo conoscete Jacques Atali vecchio scerpa di François Mitterrand un uomo assolutamente geniale e pericoloso un israelita di sicura intelligenza diciamo così visionaria che parla chiaro parlando per esempio dell'euro dice cosa credono che l'euro l'abbiamo fatto per la felicità della plebaglia europea è anche uno molto schietto ma la cosa più interessante è questo articolo è questo articolo che lui fece nel 2009 sull'Espresso e che adesso vi devo leggere in piccola parte dice la storia ci insegna che l'umanità evolve significativamente soltanto quando ha realmente paura la pandemia che sta iniziando era il 2009 era una delle successive alla alla SARS credo fosse la MERS non la Merkel la MERS anche la Merkel a modo suo è una pandemia ma insomma contenibile dice l'umanità evolve significativamente soltanto quando ha realmente paura la pandemia che sta iniziando potrebbe far scatenare una di queste paure strutturanti poiché essa farà emergere meglio di qualsiasi discorso umanitario la necessità di una nuova presa di coscienza della necessità di un altruismo come sono buoni altruismo si dovrà per questo organizzare una pulizia mondiale un sistema mondiale di stoccaggio delle risorse quindi una fiscalità mondiale si arriverebbe allora molto più rapidamente di quanto avrebbe permesso la sola ragione economica a mettere le basi di un vero governo mondiale e adesso arriva il bello perché dice è del resto con la creazione dell'ospedale che è cominciata in Francia nel XVII secolo la realizzazione di un vero e proprio stato voi direte ma cosa c'entra l'ospedale beh l'ospedale di Francia è un'istituzione che all'inizio era un'istituzione religiosa poi se ne impossessa lo stato e diventa su questo Michel Foucault ha scritto un bel libro che un bel libro che si che si intitola sorvegliare e punire dove spiega che lì dentro ci mettevano tutti i poveri e tutti quelli che erano come dire un po' in contrasto con la nuova società statalista che stava emergendo stiamo entrando e diventa il modello della reclusione generalizzata perché lì quella diventa la casa obbligatoria l'orizzonte di vita di tutti quelli che vi vengono racchiusi ora questa idea della reclusione generalizzata è un'idea che è sviluppata come ho detto soprattutto da Michel Foucault in Sorvegliare e Punire e dice la conseguenza di questa è stata diciamo l'elaborazione anche da un punto di vista teorico da parte di Jeremy Bentham del Panopticum adesso proviamo a spiegarci Atali è un soggetto veramente geniale eclettico veramente geniale eclettico scrive di tutto dalla musica alla politica alla sociologia eccetera e si è anche interessato di musica ha scritto un libro che si intitola Noise il potere cioè il rumore il potere il potere della musica e si interessa anche di Leibniz Leibniz è un filosofo il quale inventa per primo il palazzo delle meraviglie l'idealizzazione di una perfetta organizzazione politica costruita in modo tale che il padrone di casa sia in grado di ascoltare e vedere tutto ciò che viene detto e fatto nei locali senza che lui stesso venga percepito dai suoi sudditi guardate questa è un'idea sulla base della quale nasce il panoptico la foto di sinistra ma sulla destra è il carcere moderno attenzione la gatta buia relegava le persone la prigionia era fatta di buio si chiamava così gatta buia se voi vedete le prigioni moderne sono con la luce sempre accesa ed è il paradigma della modernità e del controllo moderno il dispositivo panoptico predispone unità spaziali che permettono di vedere senza interruzione e di riconoscere immediatamente il principio della segreta viene rovesciato piena luce e lo sguardo captano di più di quanto facesse l'ombra che alla fine proteggeva la visibilità è una trappola e il pudore è abolito saremo tutti illuminati e questa è la dittatura della trasparenza ma d'altro canto atta lì che ripeto è uno genialoide ce lo dice ce lo esplicita dice in occidente come altrove il diritto di fare quello che si vuole sarà controbilanciato dall'obbligo della trasparenza e nessuno potrà più nascondere ciò che ama né colui che ama e questa sarà una spinta a mettere in causa l'ipocrisia delle relazioni clandestine e ad accettare la realtà delle vite multiple maschili e femminili poi vedremo vedremo la sua idea dei poliamori come sarà collegata alla nuova idea di stato collaborativo sembra che siano tutte cose slegate invece sono tutte legate c'è un'idea dietro questo nella sua vita ognuno formerà un numero crescente di coppie e l'indissolubilità della famiglia monogamica verrà denunciata come un anacronismo e un lascito della società feudale ci si prenderà gioco della fedeltà come di un'impostura di una convenzione artificiale quasi barbara e il divorzio non verrà più vissuto come un fallimento questa è l'idea del grande ospedale non più in Francia ma nel mondo per dirla con l'economist tutto è sotto controllo dove la morte e la vita sono nelle mani di chi dirige questo ospedale e qui arriviamo agli scenari futuri del mondo che si vuole costruire un mondo dove l'eutanasia per l'appunto diventa addirittura un diritto e una forma di libertà lui lo dice con estrema chiarezza la riproduzione diventerà compito delle macchine mentre la clonazione le cellule staminali permetteranno ai genitori clienti di coltivare organi a volontà per sostituire i più difettosi signori siamo alla cosiddetta ectogenesi questo non è un disegno a caso nella università nella università adesso lo trovo abbiate patente pazienza comunque quello che vedete è un utero artificiale dove è stato allevato un agnellino e quindi in prospettiva futura potrà essere potrà ecco il Children's Hospital di Philadelphia in futuro lì ci potranno mettere un feto umano lo stanno già pensando e addirittura c'è qualcuno che sta teorizzando Anna Smejor docente della University of East Anglia ricercatore onoraria in bioetica dell'Imperial College di Londra che bisogna dedicare urgentemente fondi pubblici alla ricerca dell'utero artificiale allo scopo di emancipare le donne da quei relitti ancestrali e barbari fatti di dolore e oppressione che si chiamano gravidanza e parto ultima frontiera dell'uguaglianza dei sessi insomma per fare tutto ciò abbiamo bisogno di scienza di tecnologia di un grande ospedale in cui vivere e far vivere le nostre volontà e i nostri desideri tra il resto fuori l'ambiente ne trarrà beneficio tornerà selvaggio e la natura libera di riprodursi secondo il suo ordine lei non è l'utero artificiale noi magari sì ogni tanto però gli uomini potranno andarle a visitare in un'ora d'aria nel parco che potrà essere anche più esteso poi dentro di nuovo nel grande ospedale dove gestire vita e morte sesso e salute fame e anoressia psiche e corpo ove everything's under control l'ospedale è geniale quest'idea se voi ci pensate nel male è geniale di costruire nessuno di voi avrebbe pensato di costruire la globalizzazione sul modello di un ospedale tutti l'avrebbero fatto sulla prigione invece no cioè loro lo fanno sull'ospedale parlando il linguaggio dei buoni questa è la cosa assolutamente diabolica per il diavolo dall'inizio quando induce a peccare dice sempre così dice no ma non non trasgredirete in realtà cioè è sempre una seduzione dalla dalla genesi l'ospedale è l'orizzonte avanti a noi come dimostra il linguaggio oramai divenuto cogente mascherine misurazione della temperatura paziente zero lockdown stress distanziamento fuocolaio pandemia virologi contagio termoscanner asintomatico diagnosi dispositivi di protezione tracciamento rischio cluster droplet esame sierologico fattore R0 immunità ossigeno quarantena rebound tampone vaccino isolamento terapia intensiva monitoraggio focolaio test sierologico zona rossa cura anticorpi decesso se non l'avete capito la vita è una malattia che va tenuta sotto controllo e va curata allora non ho finito e qui e qui arriviamo al 5G c'è un libro bellissimo comperatelo oltre a quelli che vi ho detto che è di Francesco Amodeo che su alcune cose non mi trova d'accordo ma è bravissimo quando parla di economia di queste cose 31 cause 31 coincidenze sul coronavirus non lo trovate Amazon non lo vende bisogna chiederlo a lui su internet e dimostra la correlazione tra lo scoppio dei casi di 5G anche in Italia 5G cinese e lo scoppio lo scoppio del covid e la installazione dei primi dispositivi di Huawei allora allora perché è importante comunque il 5G al di là di quello che dice lui perché il 5G è la tecnologia di quinta generazione per le connessioni internet che ci consente ci consentirà di fare delle cose a una velocità pazzesca ci aggiungiamo poi i computer quantistici e capiremo che questa tecnologia oramai ci consentirà di fare tutto e di controllare tutto da una parte all'altra del mondo con ritardi frazionali di secondo quindi praticamente in tempo reale chi possiederà il 5G possiederà di fatto il potere vero ora la nostra identità con il 5G viene anche plasmata sulla base di quella digitale perché il 5G lavora con un processo di gerarchizzazione che ottimizza il tempo di trasmissione cioè ogni nostro dato viene selezionato per la ricerca successiva e diventa parte del sistema e il sistema parte della nostra vita vi ricordate che il 13 marzo il nostro profeta Bill Gates ha dismesso Microsoft e ha pensato ai vaccini ma hanno fatto di più hanno brevettato questo hanno depositato questo brevetto 20-20 dall'inquitante sigla 0-6-0-6-0-6 anche qui un po' io mi tocco sempre castamente però è così dove ci sono tutti Accenture Gavi Rockefeller Foundation Microsoft Ideo Org e adesso vi faccio vedere che cosa prevede questa cosa qui eh questo questa cosa qui è importante perché è il nome del progetto che deve portare l'identificazione digitale di ogni persona del pianeta un progetto dell'ONU dei governi nazionali eccetera ma la cosa più interessante è quello che dice vi ho fatto lo zoom di quella parte che era evidenziata in rosso l'attività del corpo umano associata a un utente può essere utilizzata in un processo di acquisizione di un sistema di criptovaluta un server può fornire un'attività a un dispositivo di un utente che è accoppiato in modo comunicativo al server un sensore accoppiato in modo comunicativo o compreso nel dispositivo dell'utente può rilevare l'attività corporea dell'utente così vi potranno curare direttamente a casa i dati sull'attività corporea possono essere generati in base all'attività corporea rilevata dell'utente il sistema di criptovaluta accoppiato comunicativamente al dispositivo dell'utente può verificare se i dati sull'attività del corpo soddisfano una o più condizioni impostate dal sistema di criptovaluta e assegnare attenzione assegnare la criptovaluta all'utente i cui dati di attività corporea sono verificati questo vuol dire in sostanza che noi avremo premio o sanzione se la nostra attività corporea e poi diventerà anche la nostra attività mentale qui siamo al controllo delle coscienze è solo questione di tempo vedete l'utero artificiale è ancora così ma lo faranno sicuramente l'intelligenza artificiale sta facendo dei progressi enormi cioè loro vogliono assolutamente entrare nella nostra vita entrare nei nostri pensieri dominarli poi ci danno come il premio e il castigo in criptovaluta questo c'è scritto qui dentro guardate sembra fantascienza ma la fantascienza è già qui la smart dust cioè la cosiddetta polvere intelligente che è già utilizzata a livello militare adesso si pensa di poterla anche collegare appunto con il vaccino per questo tutti insistono così tanto con il vaccino e appunto basta coercire lentamente le coscienze si parte con gli obblighi morali e si finisce con gli obblighi giuridici questo è il microchip che io non dico assolutamente che sarà come altri che sul web impazzano con la questione del microchip ma stiamo attenti questo è stato creato da DARPA quella zanzara che vedete in alto non è una zanzara vera è una zanzara che serve per fare operazioni militari di microspia la DARPA signori produce questa roba qui voi capite che razza di interessi ci sono dietro questo covid spero di sì e soprattutto ve lo voglio far notare questi signori che hanno fin qui previsto queste cose come appunto la fondazione Rockefeller spiega con chiarezza questo è tratto dal loro documento il ruolo che devono avere i filantropi la filantropia in lockstep lockstep una volta noi dicevamo dicevamo clausura adesso con l'aggiornamento avremo le suore di lockdown una cosa che la immagino già una cosa fantastica me le vedo me le vedo che avranno qui il lucchetto al posto del crocifisso sarà bellissimo una cosa fa molto aggiornamento e può sconciliare io adesso lo suggerisco e magari mi faccio dare una royalties allora torniamo a Aldous Axley è quello che come sapete ha scritto il mondo nuovo da cui e ritorno al mondo nuovo dice la dittatura perfetta avrà la sembianza di una democrazia una prigione senza muri nella quale i prigionieri non sogneranno mai di fuggire un sistema di schiavitù dove grazie al consumo e al divertimento gli schiavi ameranno la loro schiavitù ho dieci minuti e vado veloce torniamo a questa copertina tutto sotto controllo ci hanno detto in aprile 2020 e io vi invito a mettere lo sguardo su quella parola big government grande governo beh è questo centralizzazione del potere politico alta tassazione spesa pubblica qualcuno dice oh torna lo stato basta il mercato no guardate è come questa cosa noi dobbiamo vedere come i progressisti e i conservatori all'interno della chiesa sono due facce della stessa medaglia lo statalismo e il liberismo in questo modo qui sono esattamente due facce della stessa medaglia ve lo dimostro era il 1996 e c'era Bill Clinton e lì hanno detto che l'era del big government is over era finita va bene poi ci hanno provato in tutti i modi gli è andata un po' male adesso la recuperano d'altro canto se voi pensate all'unione sovietica alla storia dell'unione sovietica è stato il modo attraverso cui una casta si è impossessata delle ricchezze di un'intera nazione saccheggiandole e lasciando l'unione sovietica come è non dico altro perché voi siete intelligenti e avete capito oggi ce lo dicono tutti che bisogna tornare al big government big government ci vuole più stato più stato più stato vedete il ritorno del big government un modello che supera le frontiere dopo il coronavirus l'era dello small government è finita mi spiego non so se cominciate a capire anche qui siamo progressisti o conservati liberisti collettivisti ora guardate bisogna amplificare la narrazione della emergenza e lo stato di emergenza deve diventare lo stato come possiamo dire permanente anche qui ci aiuta il magnifico Atali Atali 2013 passato sette anni fa scriveva così nel 2013 lui aveva già ipotizzato che sarebbe diventato presidente Macron e ha già detto che il prossimo presidente sarà una donna quindi segnatevela se c'è una scommessina fatevela che almeno vi fate due lire diceva nessun governo nessun governo oserà più oserà più rinunciare allo stato di emergenza non c'era ancora lui l'ha già detto non se ne uscirà mai più perché ogni governo che uscisse dallo stato di emergenza darebbe un segnale di debolezza si creano involontariamente delle irreversibilità è assurdo come lo è il principio di precauzione che anch'esso è eccessivo ma da cui nessuno osa uscire a volte si creano involontariamente delle irreversibilità siamo attualmente in uno stato di emergenza per natura dobbiamo essere in permanenza nello stato di emergenza e il fatto di scriverlo nelle istituzioni non è altro che esprimere e riconoscere una realtà d'altro canto se voi guardate i governi degli ultimi anni i governi degli ultimi anni rispondono a una volontà popolare no il Parlamento europeo viene eletto e cosa fa? nulla guadagnano soldi si spostano nelle due sedi da Strasburgo a Bruxelles e governa la commissione quindi i tecnici i tecnici signori miei sanno quello che devono fare diceva Axley nel mondo nuovo non c'è bisogno di democrazia di cui continueranno a parlare ovviamente perché la società è retta secondo criteri scientifici l'elite sa perfettamente quello che fai come governare per il bene di tutti quando per caso a voi viene in mente di votare nelle urne in maniera non conforme come è successo per esempio durante le ultime elezioni europee che li hanno infastiditi molto mi raccomando continuate a votare male mi raccomando trovate Günther Oettinger che ha detto adesso facciamo capire noi agli italiani come devono votare ve lo ricordate in nome della democrazia ecco quindi la narrazione dello stato di emergenza e questo ci prepara al cosiddetto neostatalismo collaborazionista dobbiamo essere tutti le altre parole d'ordine oltre a mascherina lockdown e adesso tutti insieme tutti insieme responsabili dobbiamo stare uniti non bisogna opporsi siamo tutti tutti insieme siamo fratelli tutti così per ci stare mi è scappata mi è scappata allora allora l'evoluzione globale verso una maggiore libertà porterà a una minore fedeltà ai rapporti più precari noi in questo collettivismo collaborazionista dobbiamo non solo dobbiamo anzitutto perdere affettività verso i nostri beni così se li cucano loro ce lo dice ce lo dice ci dice a un certo punto guardate c'è un parallelo tra le relazioni con gli oggetti e quelle con le persone le seconde seguono la stessa evoluzione delle prime con un ritardo temporale e lui appunto in questa cosa qui ci dice che nell'economia collaborativa succederà ben presto che gli oggetti non saranno più proprietà degli uomini non saranno più ma verranno noleggiati e condivisi dai consumatori in funzione del loro uso per esempio lei ha una casa la deve dare a me ha capito anche lei la deve dare a me perché la devo usare lo si è visto chiaramente ad esempio per più di vent'anni con la musica attraverso i siti web peer to peer o negli scambi tra amici oggi questo si verifica anche nel caso di scambi di case mediante il sistema airbnb o altri siti web dove si possono scambiare appartamenti tra estranei per vacanze o periodi lunghi poi si scambiano le mogli si scambiano gli amici si scambiano i mariti si scambia tutto un grande trivio una cosa e tutto questo che cosa vuole fare vuole attraverso questo neostatalismo collaborazionista che è una forma mascherata vuole spezzare l'iniziativa privata guardate è necessario per loro spezzare la classe media tutti dicono non vogliamo un altro lockdown e tutti si stanno avvicinando e la classe media lentamente morirà perché è molto più comodo avere dei sussidiati è chiaro non so se mi spiego tanto il denaro non c'era non c'era il denaro non c'era denaro poi improvvisamente sono comparsi 30 miliardi 40 miliardi 400 miliardi 700 miliardi i soldi ci sono tanto li stampano loro l'importante vedremo cosa è quindi opprimere l'impresa precarizzarla esporla agli stress competitivi eliminare il sapere vedete adesso hanno richiuso le scuole c'è bisogno di gente ignorante perché se la gente un pochino studia pensa magari si ribella abolizione del contante controllo dei flussi di denaro dobbiamo porci il problema di come aggredire il contante che è presente nelle case degli italiani tanto carina con la frangetta ma un po' inquietante è la onorevole Boschi c'è tutta la citazione non ha detto solo quello ma insomma questo ci fa capire anche una certa idea gli italiani sono troppo ricchi l'80% ha le case di proprietà non è collaborativo lei capisce che è un peccato è molto molto grave come peccato lei lo vedo lei butta male butta male allora ricordatevi in prospettiva futura finisce così e e quando finirà il virus io adesso vi dico perché tutti fanno le profezie la voglio fare anche questo è sono i tempi messi il mess quando noi prenderemo i soldi io scommetto che l'economia diminuisce che la pandemia diminuisce perché in fondo noi dobbiamo indebitarci e funziona voi immaginate dice voi siete ammalati dice no ma io non sono ammalati no guardatevi siete ammalati non siete ammalati vedrete che vi ammalerete ho i tamponi eh è così vi ammalerete un po' alla volta cresce 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 anche oggi c'è stato un aumento dei casi ci sarà un aumento dei casi quindi siete ammalati e dovete curarvi ci siamo noi abbiamo fatto un ospedale bellissimo vi diamo i soldi gratis gratis insomma la disaggeriamo piccolo interesse dice ma allora ce li stampiamo noi eh no eh non è che qui ognuno stampa soldi stampare soldi ci vuole una certa noi a secoli che stampiamo soldi e ve li prestiamo va bene voi prendete i soldi ci pagate un interesse piccolo anche lungo meglio se lungo così vi schiavizziamo di più e fate quello che diciamo noi per esempio mettiamo due o tre due o tre leggi come vogliamo noi eh e poi ci date i vostri dati biometrici per voi eh sì perché se così vi curiamo la pandemia e preveniamo la prossima poi magari ve la creiamo anche ma poi vi diamo i soldi e così ne faremo un'altra e andiamo avanti questo è il sistema e quindi è per questo che io credo che noi dobbiamo affrontare con estrema serietà questa situazione non esporci e diventare personaggi grotteschi delle volte ho visto in queste manifestazioni di piazza qualcuno che si veste da superman e lo inquadrano subito no no io voglio essere serio con la mascherina sono così ma ma insomma non so se avete capito e ho finito controllo stanno copiando noi abbiamo l'idea che Dio ci vede e loro che cosa fanno ecco con il coro guardate guardate in sequenza eh Dio con il coro degli angeli eh che che ci vede ci guarda con amore loro copiano tutto hanno il loro coro di demoni guardate questi queste rock star che da anni fanno non è che fanno quella cosa lì perché sono tutte andate appena dall'oculista a vedere se sono mio più preso è così sono messaggi che passano in maniera subliminale ma e ho finito davvero la cosa più terribile è la chiesa ospedale parlano lo stesso linguaggio hanno parlato prima lo stesso linguaggio se uno parla lo stesso linguaggio ha le stesse idee ha la stessa visione del mondo siamo nella stessa logica oggi quello che interessa è riprendersi l'albero della vita e riprendersi il mondo secondo la visione appunto luciferiana e infatti come vedete il nostro il nostro Francesco Bergoglio che cosa fa presenta con il can che è uno di quelli dell'economist il nuovo mensile che si intitola blue and green green and blue verde e azzurro cioè noi ci interessiamo del pianeta oramai non ci interessiamo più dell'anima siamo diventati una agenzia e un ospedale da campo e allora io credo che sarà inevitabile che anche il luogo nel quale verrà eletto il prossimo papa magari il terzo perché omnetrinum est perfectum quindi magari ne fanno anche un altro subirà l'aggiornamento conciliare del caso eccolo qua ho finito grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti